Direttore generale Chiu Doniu, autorità, distinti rappresentanti, rivolgo volentieri un saluto a quanti sono riuniti in occasione dell'apertura della 42esima sessione della conferenza della FAO. Un appuntamento che sconta l'importante impatto della pandemia sui sistemi alimentari e sulla salute umana. Il virus ha influito sulla produzione delle derrate alimentari, ha allontanato dai campi i lavoratori agricoli, limitato i processi di trasformazione, i trasporti, la circolazione internazionale dei beni, ha pesato in senso negativo sulle politiche di sostegno al corretto sviluppo dei sistemi agricoli e alimentari, che rimane a ogni latitudine una priorità. A queste sfide la comunità internazionale, il Polo delle Nazioni Unite, delle agenzie impegnate sul terreno dell'alimentazione devono saper fornire una risposta adeguata. Vi è una connessione puntuale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale che vanno affrontati con rinnovata determinazione e concretezza. I loro risvolti, proprio sul terreno della tenuta dei sistemi alimentari e della lotta alla fame, sono sempre più evidenti. Se prima della pandemia l'insicurezza alimentare toccava 820 milioni di persone, oggi, secondo il rapporto globale sulla crisi alimentare del 2021, ben 155 milioni di persone in più si trovano in situazioni di carestia in 55 Paesi. Un vero e proprio attentato a uno dei più elementari diritti umani, quello alla nutrizione. Una preoccupante e pericolosa inversione di tendenza, che dobbiamo saper contrastare. Di fronte a sfide di proporzioni globali, la risposta non può che essere globale, puntando su strategie multilaterali, con divise e di ampio respiro. L'Italia sta operando in questa direzione, insieme agli altri partner del G20, sull'iniziativa Food Coalition, con l'obiettivo di rispondere agli effetti della pandemia sui sistemi agroalimentari mondiali e per raggiungere sistemi alimentari più sostenibili. Soltanto una prevenzione attenta e adeguata delle crisi, quale il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione, disastri naturali, ma anche le situazioni di conflitto, consentirà di raggiungere le condizioni essenziali che ci proponiamo per la pace e per lo sviluppo di società coese. La conferenza FAO 2021 apre nei fatti un intenso lavoro progettuale, che vedrà l'Italia parte attiva, con la Presidenza G20 già in corso, con l'organizzazione del Pre-Food System Summit, indetto dalle Nazioni Unite e dal Governo italiano, e con la Co-Presidenza della COP26, insieme al Regno Unito in autunno. Contiamo sulla collaborazione di tutti per un'azione collettiva e solidale, ispirata ai principi del multilateralismo, per riprendere un cammino comune e per uscire uniti dalla pandemia, verso una crescita sostenibile ispirata all'obiettivo FameZero. Buon lavoro!